Fedele ai più alti valori di devozione alla patria e custode delle gloriose tradizioni dell'arma dei carabinieri, dava nuova prova di grandissimo impegno civico ed encomiabile spirito di sacrificio, realizzando innumerevoli iniziative di solidarietà e di volontariato, dalla vigilanza degli istituti scolastici e degli spazi pubblici, alle attività di diffusione della cultura della legalità, sino a prodigarsi nelle operazioni di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dalle più gravi calamità che hanno colpito il Paese. L'assoluta dedizione e il generoso altruismo dei soci riscuotevano l'ammirata gratitudine della nazione, ponendosi in concreta continuità con il servizio dell'arma, esaltando ulteriormente il lustro dell'istituzione. Territorio nazionale, gennaio 2004-dicembre 2017. Brigata, attenti! Brigata, riposo!